Amore! Amo! Piero! Oh, oi Piero! Che sta a faccia? Eh, sto cercando di chiamare mia compagna! Hai un minuto il telefonino, scusa! Eh, no, non ce l'ho il telefonino! Vabbè, dai Piero, dai! Usa quello mio, che c'è una promozione di minuti illimitati fantastico, dai! Ah, grazie! Amore! Ah, grazie! Un telefonino! Un scopo l'avevo a chiamare! Eh?